Cioè io voglio dire una cosa solo, cioè, ma tengo il diritto di soffrire in pace, cioè se vuoi parlare, 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 non riesco a concentrare, cioè non posso stare solo tranquillo, cioè le sofferenze saranno pure mie, cioè non riesco a capire, cioè non tengo i diritti e soffri come di chi, e soffri poco, molto, e c'è una sofferenza che mi dà una soddisfazione, cioè allora riesco a concentrare, cioè sta tranquillo, cioè c'è, ti parlo uno, parlo nata, nata, cioè non riesco a pensare, allora mi devo fare cortesia, voglio stare solo, voglio stare solo perché poi nella mia solitudine, cioè, riesco a trarre in meglio di me stesso, cioè nel senso che poi secondo me buona sofferenza, cioè deve avere la soddisfazione sua, usci poco sua, cioè non è che a me c'è anche il tuo problema, che voi parlate, cioè, parlo uno, parlo un altro, poi c'è, in stress. Allora c'è stato tranquillo, allora cioè sto soffrendo, ho deciso di soffrire, sono le mie sofferenze, non so se sofferenze vostre, cioè sofferenze mie, cioè avrò il diritto di soffrire come dico io, cioè non basta manca decidere, facetemi capire, cioè la vita è mia, decido io, cioè voglio soffrire come di chi, facetemi la cortesia da venire, non esiste proprio, cioè non c'è capito.